Ciao, è il momento di tirare le somme di questo terzo anno di Fasmofobia con tutti i fantasmi, li vedete qui, e di fatto faremo una tier list aggiornata a agosto-settembre 2023 in cui, a quanto ci è dato sapere, non arriveranno nuovi fantasmi, ma comunque potrebbe essere probabile che nel corso del 2024 qualcosa arriverà questo perché recentemente ho letto che inseriranno due nuove prove, il sound recorder e il video recorder quindi qualcosa mi fa presagire che potrebbero esserci delle novità anche dal punto di vista dei fantasmi comunque, siamo qui per fare la tier list dei nostri 24 fantasmagorici amici quindi io partirei ordinandoli così, come sono nel libro e quindi dallo spirito inizierei col dire che lo spirito sarebbe un tier C, anzi di fatto è un tier C secondo me perché non ha particolari abilità, non ha particolari pericolosità ma non è neanche uno tra i peggiori, diciamo che la C la considero la media, la classifica, la metà, mettiamola così il Vrate invece va direttamente sotto, questo perché come lo spirito non ha grandi abilità ma ha dei difetti che lo rendono parecchio deboluccio basti pensare che non passa mai nel sale quindi lo si riconosce a prescindere quando mettete del sale per terra il Phantom io lo metterei qua, anche lui non ha particolari abilità e ha dei difetti però a differenza del Vrate questi difetti lo rendono anche abbastanza pericoloso perché se è vero che scompare nel momento in cui gli facciamo una foto ed è molto identificabile il fatto che sia difficilmente visibile durante la caccia comunque gli fa riguadagnare dei punti lo metterei qui il Poltergeist idem non ha delle grandi abilità che lo rendono pericoloso ha solo quella di poter spostare più oggetti contemporaneamente e drenare la sanità con un moltiplicatore del 2% oggetto però non mi sento di metterlo tra quelli più pericolosi diciamo che anche lui sta in fascia C la Banshee invece la metterei qui perché ha perso i poteri che la rendevano pericolosa e di fatto ora durante una caccia se siete da soli è un comunissimo spirito potremmo definirlo se siete in team da 2, da 3 o da 4 giocatori automaticamente uno solo sarà pericoloso mentre gli altri saranno sempre al sicuro questo perché lui caccia una sola persona alla volta il Gini invece inizia, qui iniziamo a salire di grado per via del fatto che quando il generatore è acceso quindi presumibilmente quasi sempre per preservare la nostra sanità mentale lui acquisisce velocità durante l'inseguimento quando è a distanza quindi diciamo che non lo rende pericolosissimo però è da gestire il Mare caccia al 60% quando è al buio al 40% quando è alla luce quindi è un pregio ma anche un difetto allo stesso tempo oltre a questo non ha grandi abilità se non la rottura di scatole di continuare a spegnere la luce e il contatore può diventare fastidioso ma non tanto da diventare anche pericoloso più del normale il Revenant signori io a differenza delle classifiche precedenti lo metto qui perché quando sei visto da un Revenant lui corre a 3 metri al secondo quindi c'è poco da fare se non hai un incenso e non sei pronto a gestirlo non puoi luparlo e quindi automaticamente finisce in tier S la Shade invece finisce con i suoi amichetti in tier D questo perché caccia la 35% di sanità a scendere difficilmente anzi è impossibile che cacci se ci sono più persone nelle vicinanze di conseguenza è forse quello più debole tra tutti quanti il demone va a fare compagnia a Revenant secondo me perché può cacciare molto più frequentemente tra una caccia e l'altra caccia dal 70% di sanità a scendere e ha la possibilità probabilità rara ma ce l'ha di poter cacciare anche al 100% appena iniziate l'investigazione appena mettete piedi in casa quindi pericoloso molto lo Yu Ray io eh questa è se la gioca tra A e B però appunto comunque al B perché si lui ha la possibilità di drenare la sanità dei giocatori vicini così come il Jin mi dimenticavo di dirlo del 20-25% senza che ve ne rendiate conto però al di là di questo non ha particolari pericolosità durante la caccia Loni fantasma che interagisce tanto che compare tanto che spaventa tanto ma è molto 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 visibile durante la caccia quindi è un qualcosa che gli fa perdere punti se fosse stato un B quest'ultima particolarità lo fa scendere in C secondo me lo Yu Kai eh qui iniziamo iniziamo a a fare una lotta no gli altri non li voglio guardare prima voglio che venga così come come è spontanea questa tier list quindi lo metterei in tier A semplicemente perché è gestibile nel momento in cui parlate poco e dosate bene la spirit box perché altrimenti caccia dall'80% di sanità ma durante la caccia vi sente da più lontano non sente parecchio scusate vi sente da più vicino non vi sente parecchio da lontano quindi gli fa perdere qualche punto rispetto al tier S l'Hantu anche se la gioca tra l'S e la A se non fosse che la sua velocità non è sempre presente ma è di pesa dal dalla temperatura della casa quindi lo metterei qui il Gorio se la gioca tra queste due allora sarebbe un tier D secondo me per via del fatto che non ha pericolosità aggiuntive rispetto a un comunissimo fantasma ma il fatto che si renda più difficilmente identificabile perché essendo timido non compare nei dot se non quando è da solo e se non solo tramite la videocamera lo andiamo a mettere in tier C il miling il miling fa dei suoni più frequentemente attraverso un microfono parabolico si sente meno durante la caccia quindi sono due tratti identificativi anche senza prove e non ha pericolosità mentre caccia quindi direi che lo andiamo a mettere qui a meno che non consideriate il fatto che si senta poco da lontano il rumore dei passi rumore della voce allora questo lo farebbe automaticamente salire di un punto ma non nel mio personalissimo caso l'orio invece non lo metto in S ma lo metto in A perché comunque l'abilità di poter cacciare a qualunque sanità allo spegnimento di una terza candela di ogni terza candela sia che la spenga lui sia che venga spenta autonomamente lo rende molto 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 pericoloso ma non tanto da dire ok se caccia è un problema i gemelli sono un cavolo di problema veramente non tanto per per la caccia quanto perché potenzialmente se trovate prima tracce del fantasma esca questo farà sì che la vostra investigazione venga rallentata di parecchio perché vi farà perdere tempo ora che capite che non si tratta di un comune fantasma ma si tratta del fantasma esca dei gemelli ne avete perso quindi non caccia in maniera pericolosissima ma in aciva il rai giù è un tiresse si comporta come un comune fantasma durante l'investigazione ma caccia dal 65% di sanità in giù e nel 90 99% dei casi mi sento di dire caccerà in una zona dove c'è uno strumento elettronico acceso almeno e quindi sarà velocissimo lo va che no lo va che va qui non è pericoloso più degli altri durante la caccia e anzi lascia prove identificabilissime perché può lasciare l'impronta a 6 dita piuttosto che durante la caccia si vede che cambia almeno una volta durante ogni caccia il modello del fantasma quindi essendo muta forma lo si riconosce immediatamente il mimo allora il mimo potrebbe essere uno qualunque di questi perché ogni circa minuto dai 30 secondi ai 2 minuti cambia il fantasma che sta imitando sarebbe da metterlo in B per fare una media e probabilmente ci finirà anche considerando che sarebbe un C secondo la mia opinione ma sale di 1 perché dando la falsa prova della sfera di luce comunque va a rallentare parecchio le identificazioni di tutti i fantasmi automaticamente quindi a qualche punto lo guadagna e non lo metto più su perché diciamo che ha più possibilità più probabilità di imitare un fantasma meno pericoloso di uno di quelli più pericolosi però insomma c'è sempre la possibilità il moroi un pericolosissimo a sanità basse perché diventa veramente veramente veloce probabilmente il fantasma anzi sicuramente il fantasma con il potenziale di velocità più alto tra tutti però è anche vero che bisogna arrivarci a sanità zero prima di farlo diciamo arrivare al massimo quindi non ha non è se scusate ma lo metterò in A e qui ce la giochiamo il Deugen se siete parecchio timorosi e vi nascondete appena parte la caccia senza considerare tutta l'investigazione fino a quel momento e non avete ancora capito che si tratta di lui correte un bel rischio perché se vi nascondete in un armadietto di fatto vi troverà e non avrete possibilità di scappare viceversa se vi muovete e sapete che è un Deogen comunque potete salvarvi perché si lui è velocissimo finché non vi raggiunge ma quando è vicino a voi rallenta in maniera devastante quindi è difficilmente pericoloso se sapete gestirlo però una secondo me se lo merita perché molti ci cascano il Tei Signori va qui il Tei Caccia dal 75% di sanità in giù è aggressivissimo fin dai primi momenti di investigazione e solo il Anel Tempo e solo se l'avete fatto invecchiare con la vostra vicinanza con la vostra presenza vicino a lui si renderà meno pericoloso ma di fatto è tra i più pericolosi durante un'investigazione e questa era la mia tier list sui fantasmi di Fasgonfobia 2023 io vi darò vi do appuntamento a qualora arrivassero altri fantasmi quindi in una successiva tier list a un prossimo video chiaramente l'appuntamento anche nei commenti per sapere cosa ne pensate voi ciao